Nessuna interdizione dei pubblici uffici. Il GIP del Tribunale di Catanzaro, Carlo Saverio Ferraro, ha bocciato la richiesta formulata dalla Procura a carico di Vincenzo Caserta, dirigente regionale del Dipartimento al Lavoro e alle Politiche Sociali, indagato insieme all'ex leader di Calabria Etica, Pasqualino Ruberto, nell'inchiesta sulle assunzioni irregolari nell'entenaus della Regione Calabria in vista delle regionali e delle comunali lamitine del 2015. Un verdetto pressoché scontato, visto che Caserta, una volta saputo dell'accusa di abuso di ufficio a suo carico, si è dimesso dal Dipartimento numero 7. E intanto l'inchiesta sugli incarichi clientelari, che hanno consentito di fagocitare all'interno di Calabria Etica una miriade di assunzioni, presto potrebbe segnare un altro traguardo, ampliando il numero degli indagati e i capi di imputazione, confermando quanto detto all'indomani del sequestro di 361 mila euro a carico di Ruberto, che deve rispondere di abuso di ufficio e peculato dal procuratore vicario Giovanni Bombardieri. Siamo solo al primo step.